Carissimi amici e ascoltatori benvenuti e bentrovati siamo di nuovo insieme qui in compagnia di una nuova ospite all'interno della nostra importante rubrica medicina regionelazio.it una rubrica dedicata interamente alla salute alla medicina alla prevenzione al benessere ma anche soprattutto alla psicologia che è correlata a tutto questo e stiamo per affrontare un argomento molto importante in compagnia di una professionista di riferimento parleremo con una psicologa psicoterapeuta dell'importanza del gioco nei bambini in generale affrontando vari step e lo faremo con la dottoressa Silvia Tomasi benvenuta all'interno della nostra rubrica un saluto a tutti oh grazie grazie di essere qui dottoressa Tomasi un saluto a lei e ai nostri ascoltatori dunque quanto è importante per un bambino esplorare con i propri sensi il mondo che lo circonda fondamentale direi perché lo aiuta a non solo a scoprire le sensazioni a scoprire i cinque sensi e quindi a misurarsi con se stesso ma proprio a misurarsi anche con il mondo esterno quindi poi ovviamente è sempre importante in tutte le fasi evolutive da quando nasce poi durante le fasi della crescita ovviamente l'esperienza sensoriale sarà diversa ovviamente un bambino di tre mesi esplorerà soprattutto il corpo della madre e qualche giocattolino che si propone un bambino che già in grado di camminare esplorerà molto di più il mondo circostante e proverà molte più sensazioni e si arricchirà molto di più e si misurerà anche con se stesso con le proprie forze è importante che sia lasciato libero nell'esplorazione ovviamente sorvegliato che non ci siano pericoli questo è scontato ma è molto importante che sia libero e che faccia anche un gioco senza logica non è importante che ci sia necessariamente una logica in quello che fa è importante che esplori e che scopra da solo è vero sono pienamente d'accordo anche perché proprio fin dalla primissima infanzia sia maschi che femmine hanno bisogno veramente di rendersi conto di esplorare un qualcosa di nuovo per loro tutto quello che lo circonda con meraviglia e stupore cari ascoltatori anche in questo caso condividete il tutto all'interno dei canali social qualora presenti qualora non lo siano comunque è importante anche il contatto umano e il dialogo la condivisione come sta accadendo ecco facciamo un po più un focus dottoressa Tomasi perché è importante in definitiva per lo sviluppo mentale di un bambino di una bambina tutto questo è importantissimo a questo proposito vorrei far riferimento al pensiero di uno psicanalista che è stato una pietra miliare per la psicoterapia infantile che è Donald Winnicott è uno psicanalista inglese che dice proprio che durante la terapia con un bambino si passa dal un bambino che non sa giocare a giocare insieme al bambino quindi gli si insegna a giocare in questo caso è fondamentale perché nel gioco si crea quello quel cosiddetto spazio mentale che rende possibile la pensibilità dei contenuti cerco di spiegarmi meglio il bambino quando è molto piccolo nei primi mesi di vita non distingue tra sé e mondo esterno è una conquista che fa mano mano che mano mano che viene allattato mano mano che viene diciamo accudito e quindi riuscirà poi a distinguere tra mondo interno e mondo esterno e c'è una fa ci sono quello che Winnicott chiama sia spazio transizionale che oggetto transizionale cioè quello spazio che c'è tra il bambino e la madre quindi quando il bambino comincia a rendersi conto che c'è un mondo esterno ma c'è anche un mondo interno e ci sono degli oggetti come sappiamo che possono essere una coperta un peluche che diventano molto importanti tipicamente verso verso l'anno l'anno e mezzo due anni tutti i genitori sanno che i bambini hanno un oggetto preferito e quello è l'oggetto transizionale e perché e quindi il gioco ha questa funzione proprio di fungere da spazio transizionale tra il bambino e il mondo esterno di farlo affacciare verso il mondo creando dei contenuti mentali perché attraverso il gioco noi possiamo imparare a contare possiamo imparare che gli oggetti sono più grandi più piccoli a differenziarli a differenziare possiamo imparare il il gioco simbolico quindi fare finta che il giocare a mamma e figlia per esempio oppure facciamo finta che tu sei cappuccetto rosso io sono il lupo cattivo anche i ruoli anche i ruoli quindi si nasce il pensiero simbolico ed è molto importante anche questo sono pienamente d'accordo è tutto molto significativo anche toccare e guardare i colori insomma differenziare poi colori anche in base ai materiali è molto importante ecco tante cose potremmo considerare e anche voi tutte mamme in ascolto insomma è importante perché sapete quanto sia importante tutto questo per i vostri figli una mamma in genere conduce sempre con amore tutto questo la guida nell'esplorazione del proprio figlio assolutamente anche il tipo di gioco che il bambino fa ci dice molto anche sul suo mondo interno e ci dice anche in che fase evolutiva sta dal punto di vista dello sviluppo mentale intendo tant'è vero che per esempio nei bambini autistici che spesso hanno problemi a a relazionarsi con il mondo esterno diciamo è molto importante vedere il livello di gioco che spesso è molto primitivo è come se fossero bambini molto più piccoli ed è molto interessante vedere quando grazie alla terapia il livello di gioco evolve quindi anche anche in terapia attraverso il gioco che un bambino fa si può capire non solo a che livello sta ma gli si può offrire anche uno spunto di riflessione per esempio un bambino che mi ricordo durante una mia terapia che un bambino autistico non molto grave però che gli piaceva molto tamburellare proprio con il tamburello suonava questo tamburello a un certo punto prende peppa pig e la sbatte sul tamburello io gli ho detto fai suonare il tamburello a peppa pig che bella idea che hai avuto magari in quel momento lui non aveva pensato a dare questo significato al gioco ma offrendogli questo spunto gli ho dato un contenuto mentale a questa attività che sarebbe stata forse la ripetizione di una stereotipia ecco un esempio molto chiaro ed efficace soprattutto per voi ascoltatori insomma che fa capire quanto sia importante rapportare il concreto all'aspetto mentale un perfetto connubio tra i due aspetti per associare tante cose per evolvere ulteriormente dottoressa Tomasi è quasi in conclusione dell'intervista che importanza continuerà ad avere il gioco per lo sviluppo mentale di un bambino anche in futuro nella società futura io mi auguro che ce n'abbia sempre moltissima perché il gioco è un'attività bellissima anche per gli adulti cioè mi auguro che ne abbia sempre molta perché offre tanti spunti e mi auguro e anche spunti proprio da anche la magia alcune volte hai visto la fata ti ha portato i soldi sotto al cuscino perché tu vabbè il topolino la fata quello che ti ha portato i soldi sotto al cuscino perché ti è caduto il dente cioè il gioco dà sempre quell'elemento di magia in più anche tante volte quindi io spero che ci sia sempre molto importante il gioco me lo auguro e penso che ce l'avrà magari chissà in che forma nel futuro vabbè insomma sarà in linea al passo con l'evoluzione della società qualsiasi cosa accada certo che il gioco avrà sempre il suo ruolo primario la sua fondamentale importanza per tutti i bambini sia maschi che femmine per guidarli anche con efficacia verso una crescita verso il loro sviluppo siamo arrivati alla fine della nostra interessantissima intervista prima di salutarci ricapitoliamo i contatti della dottoressa Silvia Tomasi psicologa psicoterapeuta abbiamo parlato dell'importanza del gioco nei bambini il suo cellulare 339 69 89 443 l'indirizzo si trova insomma lo studio si trova presso piazza Ungheria ai parioli e per concludere l'indirizzo email silviatomasi.hotmail.com abbiamo concluso davvero un saluto e un ringraziamento ancora alla dottoressa Silvia Tomasi un saluto a tutti grazie un saluto a lei e ai nostri ascoltatori grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti